Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Linda e oggi in questo video vi parlo brevissimamente di un bigliettino per la festa del papà che si può realizzare molto facilmente sia con materiali di risulta sia a distanza con i bambini perché è veramente semplice. Quindi ho pensato di creare qualcosa di basic in modo che i bambini possano farlo tranquillamente con solo delle indicazioni riguardo alle misure e alla piega di questo bigliettino. Giro adesso la telecamera e vi faccio vedere come l'ho realizzato. Per realizzare il biglietto per la festa del papà io ho utilizzato un cartoncino in formato A4, il colore è puramente casuale perché è un color crema di un foglio semiruvido che avevo in casa. Io utilizzo sempre materiali di risulta che ho in casa per creare i prototipi, ma ogni bambino può scegliere il colore che desidera o possiamo indirizzarli tutti su uno stesso colore. Io ho piegato in tre parti questo cartoncino come ho fatto per dare una direttiva chiara. Ho preso il righello, l'ho appoggiato con lo zero in basso, eccolo qua, e ho fatto un segnetto in prossimità della tacchetta dei 10 centimetri e mezzo. Poi ho ripreso il righello, che in questo caso è dotato di vita propria, quindi ha deciso di sfuggirmi, e l'ho rimesso sempre con lo zero sulla tacchetta che ho creato, la 10 e mezzo, e ho fatto un'ulteriore tacca su 10 e mezzo. Quindi ho creato due segni, 10 e mezzo, 10 e mezzo, 10,5 e 10,5. Ho chiuso, quindi ho piegato e ho chiuso così, e questo poi l'ho ripiegato in questo modo. Poco sul fatto, ho mandato ai bambini in modalità asincrona questo foglio con tutti i pezzi che compongono questo biglietto. Per chi non avesse la possibilità di stamparli, ho inserito i centimetri in ogni figura, in modo che con un semplice righello e con una matita si possano tranquillamente ricreare. Questa targhetta è una targhetta che ha come altezza 6 centimetri. Io l'ho ricostruita con un pezzettino di cartoncino di risulta, era la scatola di un'agenda, poi l'ho ricontornato all'interno con un iposca bianco, ho attaccato questa targhetta festa del papà, che anche questo ho mandato ai bambini, e con dietro lo scotch carta semplicemente perché sono delle prove, e io ho insegnato ai bambini che quando si fanno delle prove è meglio utilizzare lo scotch carta, che poi quando è tutto completo toglieremo e passeremo alla colla. Quindi con lo scotch carta come prima cosa ho appoggiato qui. Poi, aprendo questo biglietto, mi piace l'idea di mettere qui sotto delle targhette come se fossero delle bandierine. I bambini non devono far altro che ritagliare questo pezzettino da questo foglio, appoggiarlo su un cartoncino, ricontornarlo e creare quattro forme uguali. Se non volessero farlo con il ricalco, ho segnato i centimetri. Io ho utilizzato sempre del cartoncino di risulta, così per non sprecare altro cartoncino, ecco qua che vedete tra l'altro con una fantasia pure abbastanza carina, ed eccolo qua con un pennarello indelebile, in questo caso io ho utilizzato l'uniposca, no? Questo no? Questo? Ecco qua che troverete la scritta papà. Ho creato anche i buchi perché penso che potrebbe essere carino infilarci dentro un laccetto, che però non ho ancora fatto. Poi ecco qui quest'altra forma, quest'altra targhetta, che io ho stampato su un foglio azzurro, ma sempre, ripeto, si può fare con qualsiasi foglio, qualsiasi colore e qualsiasi materiale. Ecco, a questo punto dobbiamo utilizzare questi due rettangoli che vedete qui, che dovrebbero essere riprodotti su un foglio di cartoncino. Cosa ci andremo a fare? Io ho utilizzato questo file, un'idea da questa agenda della maestra Consuelo, che è l'agenda felice, però credo che il materiale che ho utilizzato si possa trovare sulla sua pagina tranquillamente. Oscar, ho fotocopiato da quell'agenda questo, che praticamente è un blocchetto di buoni per un papà speciale. Quindi in questi buoni troviamo buono per un massaggio rilassante, un caffè con la schiuma, un favore a tua scelta, eccetera. I bambini devono semplicemente ritagliare questo rettangolo e poi tagliare uno a uno i buoni. Questi buoni andranno poi ad essere spillati con i due cartoncini, i due rettangoli di cartoncino sopra e sotto a formare una sorta di copertina. Ed ecco qua che abbiamo il nostro blocchetto di buoni che poi andrà messo all'interno della nostra busta con una poesia, una lettera, un disegno, un qualsiasi cosa i bambini vogliono preparare con la loro fantasia e la loro creatività. Qui si possono scrivere papà ti voglio bene, il nome del papà, insomma quello che desiderano. Io per facilitare il tutto chiedo ai bambini di chiudere i laterali con lo scotch. quindi il mio biglietto poi verrà assolutamente con lo scotch trasparente così non si vede, verrà in questo modo. Basta un po' di manualità e alla fine il nostro semplice biglietto per la festa del papà è pronto. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile soprattutto, che possiate provare a riprodurre questo piccolo biglietto, questo tutorial possa essere servito per farvi venire perlomeno un'idea, perché poi tutto si può modificare, cambiare, basta semplicemente avere un'idea che ci fa scattare la vena della creatività. Ci vediamo al prossimo video, vi ringrazio per aver visto questo e vi saluto. Ciao!